Ecco la nuova giunta comunale di Teramo, quella targata Maurizio Brucchi, molto giovane, 43 anni l'età media dei 10 assessori, il primo esecutivo presentato dopo le elezioni dello scorso 6 e 7 giugno, un primo segnale, dice Brucchi, dell'efficienza con cui lavoreremo. Doverosa la presenza di ieri al tavolo di coordinamento del PDL che ha fatto slittare di 24 ore la presentazione, ma squadra e deleghe non sono cambiate di una virgola nelle ultime ore. Maurizio Brucchi tiene per sé cultura, politiche sanitarie, polizia urbana, i rapporti con enti e aziende partecipate e la Team che sarà rilanciata a giorni la nomina del neopresidente. Vice sindaco Alfonso Dodo di Sabatino Martina entra in giunta da esterno in quota Udc con delega al bilancio e programmazione economica. In quota PDL Rudy Di Stefano, il più giovane di tutti con i suoi 33 anni, deleghe ad ambiente, patrimonio e protezione civile. Linea verde anche con Giovanni Luzzi, assessore alle politiche comunitarie e informatizzazione e Mario Cozzi che amministrerà le attività produttive. Secondo mandato in giunta per Giorgio D'Ignazio che avrà turismo, rapporti con università e consiglio comunale e manterrà le politiche sociali. L'unica donna è Mirella Marchese, assessore al personale, pari opportunità, anagrafe, contratti e appalti. Fino ai più anziani, Corrado Robimarga a cui vanno l'urbanistica e l'architettura della città e Piero Romanelli che ha deleghe alla pubblica istruzione e le politiche giovanili e del lavoro. Due gli assessori dalla lista al centro per Teramo, secondo mandato consecutivo anche per Giorgio Di Giovan Giacomo con deleghe più pesanti, lavori pubblici e mobilità. Prima esperienza per Guido Campana, sport, eventi e manifestazioni. Una squadra nata dopo aver sentito tutte le forze, anche la Lega Nord che ha contribuito alla vittoria pur non avendo esponenti in consiglio. Molta voglia di impegnarsi, di lavorare, di fare bene. Abbiamo fatto una pre-riunione, un'oretta, ci siamo fatti una chiacchierata. Insomma li vedo molto carichi, molto determinati. Insomma io credo che è una giunta che saprà dare le risposte che la città si aspetta. Nella pre-riunione che linea ha tracciato? Che discorso ha fatto? Allora nella riunione ho detto innanzitutto umiltà, molto umiltà, poco personalismi, gioco di squadra, ho detto che bisogna lavorare, stare poco seduti sulla poltrona, andare molto in giro, avere contatto con i cittadini, verificare di persona quale sono le problematiche. Tra le priorità imminenti la messa in sicurezza delle tre scuole danneggiate da sisma, viabilità e traffico all'insegna della città, della bicicletta e del pedone e gli assessori dovranno dare il buon esempio, avranno una propria bici e con essa si muoveranno per il centro. Brucchi infine ha annunciato la giunta itinerante con la sua squadra al completo, tornerà nelle prossime settimane in tutte le zone del comune dove è stata fatta la campagna elettorale.